Non ha ancora un volto e non ha ancora un nome il complice di Calogero, Piero Lopresti, che sabato scorso ha sparato contro Andrea Cusimano, fruttivendolo al mercato del capo, uccidendolo. Cusimano è morto durante la corsa in ospedale. Si tratta dell'uomo che era alla guida di una smart, fuggita a grande velocità dopo l'agguato. L'esame delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di Piazza Verdi e di Via Volturno si è rivelato prezioso per gli investigatori, che sono dapprima riusciti a isolare una sequenza in cui si vede una smart correre a tutta velocità, poi sono riusciti, ingrandendo i fotogrammi, a isolare il numero della targa. La smart è stata trovata in un magazzino ieri pomeriggio e sottoposta ad analisi, alla ricerca di tracce utili a risalire all'identità di chi l'ha guidata e nascosta. Mancano alcuni tasselli, ma in queste ore carabinieri e magistrati non si sbottonano, anche perché l'auto non risulterebbe rubata. Un dettaglio non da poco che potrebbe aprire una crepa importante nelle dinamiche che hanno portato all'omicidio di sabato scorso è nel muro di umertà che ha ostacolato la fase iniziale delle indagini su quello che fino a questo momento è il momento offerto da Lopresti, un'offesa, una lite poi vendicata a colpi di pistola. Forse un po' poco per un agguoto studiato, non per dare una lezione, ma per uccidere.